Portogallo è capital gain tax, come il Portogallo tassa l'alineazione dei cespiti, l'alineazione degli asset, le cosiddette plus valenze. Lo vediamo tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliallatele e tu sei su Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e a cliccare un like che eventualmente mi laverai se non ti sarà piaciuto questo meraviglioso contenuto. Oggi parliamo di Portogallo e capital gain tax. Per quale motivo parliamo di Portogallo? Fondamentalmente perché siamo in questa splendida cornice qui di fronte alla torre di Belem e quindi oggi è dedicata al Portogallo. La tassazione dei capital gain è uno degli argomenti topic che gli imprenditori mi pongono sempre nelle loro domande. Vogliono sapere, ok Luca, se io mi riloco in Portogallo e quindi divento fiscalmente residente qui, che cosa succede ai miei asset in giro per il mondo? Quindi quando li vado a vendere, quando li vado a donare, quando li vado a conferire in eventuali altre strutture, quando vado a fare riorganizzazioni societarie o personali appunto di asset immobiliari e non in giro per il mondo. Cerchiamo oggi di rispondere a questa domanda che chiaramente vi avviso non è di semplicissima interpretazione. Come tutto il diritto tributario anche la capital gain tax ha le sue difficoltà. Diciamo che il vantaggio del Portogallo che noi conosciamo e utilizziamo come pianificatori è evidentemente quello dell'NHR, cioè non abitual resident regime, per cui fondamentalmente ci dà un vantaggio fondamentale questo regime, cioè i passivi income derivanti dall'estero, i cosiddetti inbound dividend per esempio, inbound interest o inbound royalties, quindi cose che arrivano dall'estero da altre giurisdizioni che non sono il Portogallo, tecnicamente non sono tassate, o meglio tecnicamente si dice che sono esenti, esentate da tassazione. Qual è l'articolo che dobbiamo andare a prendere in considerazione quando alieniamo i nostri asset in giro per il mondo e ci troviamo fiscalmente residenti in Portogallo? La prima cosa da fare è andare a vedere se esiste un trattato contro le doppie imposizioni tra il Portogallo e il paese all'interno del quale insiste si trova l'asset che vogliamo alienare. Cerchiamo di fare quindi degli esempi pratici per metterti in condizione di comprendere meglio e con più facilità che cosa accade in Portogallo. Esempio numero uno, che cosa succede se alieno una casa avendo un immobile che ho disponibile in giro per il mondo? L'articolo di riferimento del trattato contro le doppie imposizioni è il 13 paragrafo 1. Tecnicamente 9 volte su 10, oserei dire il 99% delle volte, l'articolo 13.1 del modello OX del trattato contro le doppie imposizioni autorizza a tassare solo e soltanto il paese in cui l'immobile insiste. Per cui se la mia casa per esempio si trova in Italia e la vendo, pagherò le tasse in Italia, quel capital gain non sarà tassato in Portogallo. Quindi non è che viene tassato e poi vado a chiedere il credito di imposta per le imposte assolte in Italia per esempio, cioè applicando l'articolo 23 a volte il 24 del trattato. No, vado direttamente a non tassarlo, a esentarlo, perché l'NHR ci permette fondamentalmente di non tassare una seconda volta sicché sempliciter appunto senza necessità poi di andare a richiedere un credito di imposto. Ovviamente se questo immobile si trova a Dubai dove non c'è tassazione, allora ci sarà una doppia non tassazione, perfettamente legittima e perfettamente legale. Il secondo esempio invece è quello sulle cosiddette movable property che è un altro esempio piuttosto frequente all'interno delle casistiche dei miei clienti. Può succedere per esempio che tu voglia vendere il tuo store digitale oppure un IP rights oppure una licenza, quindi sono degli asset che 9 volte su 10 sono storage, cioè si trovano all'interno delle società che utilizzi per fare business. Tecnicamente qui devo andare a vedere sempre se esiste quindi un trattato contro le doppie imposizioni, perché io ricordo, sono in Portogallo come persona fisica, la mia società per esempio si trova in Inghilterra e ha uno store magari su Shopify, magari su whatever, su qualsiasi altro strumento utilizzate per i vostri store e allora devo andare a vedere che cosa mi dice l'articolo 13.2 del trattato. Tecnicamente di nuovo nella maggior parte dei casi è impossibile generalizzare, altrimenti il mio lavoro sarebbe troppo semplice, devo andare a vedere che cosa mi dice questo articolo. L'articolo mi dice che tecnicamente questi asset, i movable property, sono tassati nel paese in cui si trova un fixed place of business, quindi se questo asset è incorporato all'interno di una società è molto probabile che questo asset venga tassato nel nostro esempio in Inghilterra, se questo è il caso, già c'è una tassazione e quindi di nuovo il capital gain che mi riporto su un conto corrente portoghese come persona fisica proprietaria di quell'asset tecnicamente non è tassata o comunque viene esentata. L'esempio numero 3 che voglio porvi invece è ancora un altro esempio abbastanza tipico, che cosa succede se alieno una partecipazione cosiddetta substantial? Le partecipazioni sono substantial quando io ho più del 25% di una partecipazione extra, qui è abbastanza complicato, vi direi che 5 volte su 10 rischio di applicare il 28% sul capital gain, se io ho una società in Inghilterra e la vendo, quel capital gain è tassato in Portogallo al 28%, anche qui vado a vedere l'articolo 13, ma qui è necessario intervenire con pianificazioni mirate appunto di tax planning se si vuole evitare il 28%, non è banale, non è semplice. Il quarto esempio significativo che può interessare è che cosa succede se alieno invece qualcosa, un asset che si trova in una giurisdizione blacklisted per il Portogallo, quindi per esempio la Malesia o comunque qualsiasi altra giurisdizione blacklist, vi lascio il link in descrizione per avere l'elenco completo. Tecnicamente in questo caso è probabilmente impossibile evitare la tassazione che non sarà del 28% ma potrebbe in alcuni casi arrivare anche al 35%. Io sono Luca Taglielatela, mi auguro che questo contenuto sia stato di tuo gradimento, se è così e non l'hai ancora fatto iscriviti al canale o lasciami un like, dubbi, approfondimenti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Noi ci rivediamo nel prossimo video.